Gela, sequestrati 140 grammi di cocaina, dopo l'arresto scatta l'obbligo di dimora per un quarantenne. Villarosa Profalcone, arbitro aggredito al triplice fischio finale, inflitte squalifiche fino al 2028. Un grazie a tutte le donne della polizia. Il post pubblicato sulla pagina Facebook della Questura Nissena. Sport, calcio, domenica Enna Nissa a porte chiuse, provvedimento annunciato dal club biancoscudato sul canale social. Bentrovati, a Gela sequestrati 140 grammi di cocaina, dopo l'arresto scatta l'obbligo di dimora per un quarantenne. I carabinieri del nucleo investigativo, collaborati dai colleghi del nucleo cinofili di Palermo del reparto territoriale di Gela, nei giorni scorsi hanno tratto in arresto un uomo di 42 anni residente a Gela. Durante l'operazione di servizio finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga, sono stati sequestrati 140 grammi di cocaina, 40 grammi di sostanza da taglio, un bilangino di precisione e materiale di diverso genere, probabilmente utile per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la procura della Repubblica di Gela, l'indagato veniva rinchiuso in carcere in attesa delle successive determinazioni dell'autorità giudiziaria. Il 6 marzo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela ha convalidato l'arresto ed ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Gela e di presentazione alla Polizia giudiziaria tre volte a settimana. Villarosa pro Falcone, arbitro aggredito al triplice fischio finale, inflitte squalifiche fino al 2028. Doveva essere una partita di calcio, così non è stato. Momenti di autentica tensione si sono verificati durante la sfida di promozione fra Villarosa e pro Falcone, dove l'arbitro è stato aggredito dai calciatori del Villarosa. Dopo la fine della partita il direttore di gare è stato strattonato fino a strappargli la maglia impedendogli di uscire dal campo. In particolare un calciatore ha tirato per la testa l'arbitro facendolo cadere a terra. Non si è fatta attendere la decisione del giudice sportivo che ha inflitto pesanti sanzioni ai calciatori del Villarosa. Nello specifico cinque anni di squalifica fino al 2028 nei confronti di due calciatori, tre anni fino al 2026 per un altro giocatore sempre nel Villarosa, mentre cinque giornate di stop per due calciatori. Decisione pure nei confronti dell'allenatore fermato fino al prossimo 30 aprile, mentre alcuni dirigenti sono stati squalificati per diverse settimane. Consiglio Comunale di Caltanissette è stato approvato il regolamento del garante della disabilità. Il Consiglio ha approvato il regolamento comunale per l'istituzione della figura del garante della disabilità, che fa seguito ad una mozione del consigliere comunale Angela Caruso ed è stata votata favorevolmente in Consiglio. Il Comune di Caltanissette sarà il primo comune della provincia ad essere dotato di questa importante figura, una dimostrazione concreta che può migliorare la qualità di vita delle persone più deboli. Una cartolina filatelica per celebrare l'8 marzo in provincia di Caltanissette. La parità di genere nel Nisseno, oltre il 40% delle risorse negli uffici postali e nei centri di recapito è donna. Anche quest'anno Poste Italiane celebra l'8 marzo con una cartolina filatelica dedicata alle donne. Disponibile al prezzo di un euro negli uffici postali con sportello filatelico di Caltanissette a Leone e Gela, la cartolina presenta un design minimalista con un profilo di donna su fondo rosa, che ricorda un timpropostale. Secondo una rappresentanza femminile nel Nisseno, oltre il 40% delle risorse presenti negli uffici postali e nei centri di distribuzione è costituito da donne, con oltre 40 portalette interattive nella zona e il 50% degli uffici guidati da donne. Nel 2022 Poste Italiane ha ricevuto la certificazione Equal Salary, che attesta l'equità retributiva tra donne e uomini nell'organizzazione. E quest'anno, per il quarto anno consecutivo, è stata premiata con la conferma del Gender Equality Index, l'indice mondiale che valuta la qualità delle iniziative aziendali per l'uguaglianza e l'inclusione. Un grazie a tutte le donne della Polizia, il post pubblicato sulla pagina Facebook della Questura Nissena. Buon 8 marzo e buona festa della donna. Un grazie di cuore a tutte le donne della Polizia di Stato che quotidianamente si impegnano in servizio per garantire la nostra sicurezza. È quanto si legge sulla pagina Facebook della Questura di Caltanissetta. Il post prosegue così. La nostra amministrazione, nel 1959, fu protagonista della svolta epocale che stabilì per la prima volta l'ingresso delle donne in una forza di polizia italiana. Con la legge 1083 del 7 dicembre, venne infatti istituito il corpo di polizia femminile, che prevedeva le figure delle ispettrici e delle assistenti di polizia. La riforma del 1981 unificò il corpo delle guardie di pubblica sicurezza e la polizia femminile nella moderna polizia di Stato, prevedendo parità di genere e di carriera. Oggi, dopo oltre 60 anni, le poliziotte italiane sono circa 16.000 e ricoprono tutti i ruoli, dalla gente al dirigente generale, e sono impegnate in ogni settore e specialità della nostra istituzione. Donna che impresa a San Cataldo storie di esperienze lavorative al femminile Si chiama Donna che impresa, l'evento tenutosi all'auditorium saporito a San Cataldo. Un titolo un po' provocatorio, ma che vuole stimolare e far riflettere sul mondo dell'imprenditoria al femminile, tenuto nel giorno della festa della donna. Alla presenza del sindaco Gioacchino Comparato e del vice sindaco e assessore alle pari opportunità Marianna Gutilla, sono intervenute quattro imprenditrici che hanno raccontato le loro storie sull'imprenditoria femminile. Eleonora Rocca, manager, Oriana Torregrossa, esperta digitale, Nicoletta Iacobacci, global technology ethic advisor e Costanza di Quattro, imprenditrice e scrittrice. Oggi è un mix di sinergie che davvero ci danno la consapevolezza e ci testimoniano quanto è importante il lavoro di tutti. in sinergia e sempre con un fine comune, che è quello per la nostra comunità, per fare sviluppare davvero un principio di equità e di etica al femminile. Oggi parliamo di donne, parliamo di successi, di impresa, di creatività, di sfide, perché il lavoro da fare è ancora tanto. È chiaro che la parità di genere è veramente ancora lontana da realizzarsi a pieno. Però siamo qui per ispirare tante donne, a partire dalle più giovani. È tuttora vigente il bando finalizzato alla ricerca di cittadini disponibili a svolgere il ruolo di ispettore ambientale volontario. Lo ricorda la terza commissione consigliare ambiente di Palazzo del Carmine. La terza commissione consigliare ambiente ricorda alla cittadinanza che è tuttora vigente il bando finalizzato alla ricerca di cittadini disponibili a svolgere il ruolo di ispettore ambientale volontario. Il relativo regolamento, redatto dalla stessa commissione e deliberato in Consiglio Comunale nel luglio 2020, prevede l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale volontario comunale, che avrà il compito di aiutare la cittadinanza a rispettare le corrette procedure di conferimento rifiuti, ma anche suggerire comportamenti tendenti a migliorare il decoro urbano. In particolare, l'ispettore ambientale volontario svolgerà un'attività di vigilanza e individuazione di aree di accumulo rifiuti, oltre a rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini e con gli esercenti delle attività commerciali in merito alla raccolta differenziata, al recupero dei rifiuti e alla qualità dei servizi ambientali. Oltre ai comuni cittadini possono aderire al bando anche le associazioni che nel proprio statuto prevedono attività ambientali. Quando proporranno la propria disponibilità a previo superamento di un colloquio valutativo, avranno conferito il ruolo con provvedimento del sindaco. Caltanissetta ordinanza per altri 32 stalli rosa. In città complessivamente 36 gli spazi per la sosta gratuita delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore ai due anni. Il comune di Caltanissetta ha dato il via libera alla realizzazione di altri 32 stalli rosa che saranno posizionati davanti a uffici pubblici e supermercati con parcheggio gratuito per le donne in stato di gravidanza o per genitori con bambini di età non superiore a due anni. In questo momento gli stalli rosa in città sono quattro che diventeranno in totale 36 con la delibera che il comune di Caltanissetta ha approvato. Per usufruire del beneficio sarà necessario munirsi dell'apposito permesso rosa rilasciato dalla polizia municipale. Gli stalli rosa saranno applicati davanti a uffici pubblici come in via De Gasperi, via Malta e via Le Regione, in prossimità di uffici postali come in piazza Pirandello, via Paladini e piazza Roma, nel villaggio Santa Barbara presso la chiesa in Corso Italia, ma anche di supermercati in via Mari, via Le Michelangelo e via Musco. Come si legge nell'ordinanza del comune di Caltanissetta, i trasgressori saranno puniti secondo la sanzione prevista dalla normativa. Onlus e associazioni sportive e dilettantistiche al via le domande del 5x1000 per l'anno 2023. Tutto pronto per le iscrizioni al 5x1000 2023. Da oggi fino all'11 aprile le Onlus e le associazioni sportive e dilettantistiche possono presentare domanda per accedere al contributo. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è inoltre disponibile per la consultazione e l'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023. L'elenco, aggiornato in base alle verifiche svolte dall'Agenzia, le revoche e delle iscrizioni trasmesse dalle stesse Onlus, comprende le organizzazioni già inserite nel precedente elenco permanente e quelle regolarmente iscritte in corso al 2022, in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Le organizzazioni che sono iscritte all'anagrafe, ma non sono presenti nell'elenco permanente delle Onlus accreditate, possono presentare domanda online all'Agenzia delle Entrate da oggi, 8 marzo, fino a martedì 11 aprile. Il termine previsto dalla legge il 10 aprile, infatti, è un giorno festivo e viene quindi prerogato al giorno successivo. C'è tempo fino all'11 aprile anche per le associazioni sportive e dilettantistiche. Sono tenuti a presentare la domanda in via telematica quelle di nuove costituzioni e quelle che nel 2022 non si sono iscritte e non possedevano i requisiti richiesti dalla legge. L'istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell'Agenzia, direttamente o tramite intermediario. In particolare, l'applicativo per le iscrizioni delle Onlus è disponibile sul sito dell'Agenzia, mentre quello per l'iscrizione delle associazioni sportive e dilettantistiche è disponibile sia sul sito delle Entrate che del CONI, mediante collegamento con il sito dell'Agenzia. Indernità di disoccupazione. L'Inps ricorda ai beneficiari l'obbligo della dichiarazione di reddito presunto per l'anno in corso. I beneficiari della Naspi, l'indennità mensile di disoccupazione, che nel corso del 2022 hanno provveduto a dichiarare il reddito presunto da prestazioni professionali, devono effettuare la stessa operazione per il 2023. Sono circa 38.000 in totale i soggetti interessati. L'Istituto ha inviato una comunicazione tramite mail ricordando alle persone interessate la procedura. Accedendo al portale Inps e accreditandosi mediante Speed, CIE e CNS, l'utente dovrà utilizzare il modello Naspi.com per effettuare la comunicazione. Inoltre, il reddito presunto per l'anno corrente deve essere comunicato anche se corrispondente a zero. Per poter trasmettere il Naspi.com è necessario digitare la parola Naspi nella barra di ricerca del sito, selezionando la scheda Naspi, indennità mensile di disoccupazione. Una volta effettuato l'accesso al servizio, sarà possibile trasmettere la comunicazione utilizzando il seguente percorso dalla barra laterale sinistra, altri servizi, poi Naspi e infine comunicazione Naspi.com. La stessa dichiarazione di reddito presunto potrà essere trasmessa anche dagli enti di patronato. Domenica Enna Nissa a porte chiuse. Provvedimento annunciato dal club biancoscudato sul canale social. Enna Nissa si giocherà a porte chiuse. La decisione è stata presa dal prefetto territoriale di Enna dopo i disordini dell'andata per scongiurare ogni rischio di turbativa dell'ordine e la sicurezza pubblica. Lo comunica la Nissa sulla sua pagina Facebook, dove annuncia che il prefetto di Enna, alla luce dei gravi episodi di violenza di cui si è resa protagonista anche la tifoseria ennese in occasione dell'incontro di calcio disputato a Caltanissetta lo scorso 13 novembre, ha disposto che la partita di calcio Enna Nissa prevista per domenica 12 marzo allo Stadio Gaeta si svolga in assenza di spettatori. Il provvedimento è stato assunto per scongiurare ogni rischio di turbativa dell'ordine e la sicurezza pubblica, in linea con la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Ancora a Nissa, prossimamente l'imprenditore Ciociaro, Luca Giovannone, sarà a Caltanissetta per sostenere la squadra nel momento più delicato della stagione. Comincia sempre di più a delinearsi il futuro societario della Nissa. Il presidente in pector e Luca Giovannone, in attesa di diventare azionista e presidente esecutivo della Nissa, attraverso i canali ufficiali del club biancoscudato, ha annunciato che dal 13 al 19 marzo sarà a Caltanissetta per sostenere la squadra. In vista, si legge nella pagina social ufficiale del club di questo caldo finale di stagione. Inoltre lo stesso Giovannone, in seguito alle polemiche nate sui social, riferita al suo sostegno per il treviso calcio, ha precisato che sarà solo a livello di sponsorizzazione. Un legame di natura commerciale che non nasce per caso, ma che scaturisce dalla presenza di una importante filiale dell'Agenzia Osmosi S.p.A. a Bussolengo, nel Veneto. Quindi, per i tifosi giallorossi, non spetta che attendere qualche settimana e poi il nuovo futuro della Nissa si schiuderà all'orizzonte. Vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'Italia continuerà a trovarsi esposta a un flusso di correnti umide occidentali atlantiche, piuttosto temperate, che trasportano molta nuvolosità. Infatti, osservando la mappa delle nuvole, ci mostra come gran parte, in modo particolare, dei settori terrenici siano interessati da questi addensamenti nuvolosi che a tratti si muovono verso il comparto adriatico, ma anche e soprattutto l'arco alpino confinale, con qualche debole precipitazione. Infatti, osservando anche lo zoom delle piogge, notiamo come in realtà il clima è asciutto un po' ovunque, salvo qualche fenomeno sul Levante Ligure e sul Triestino e, come dicevo, sui confini alpini. Vediamo più nel dettaglio il tempo che ci aspetta, quindi nel corso di giovedì. Avremo una giornata complessivamente soleggiata sul comparto adriatico, in parte anche sulla Valpadana, addensamenti frequenti invece sulle regioni terreniche, come dicevo, con qualche locale pioggia sul Levante Ligure e sul Triestino. Temperature che aumentano, infatti, si potranno raggiungere valori diurni anche fino a 20 gradi, non solo all'estremo sud, ma a tratti anche sulle pionure del nord, quindi valori ben al di sopra delle medie. Tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, Buonasera, Via Edmondo De Amicis Servizio notturno, Eufrate, Viale Stefano Candura Grazie a tutti.